Bella ragazzi sono Kingslave Corporation e benvenuti nella live pomeridiana Seguitemi su Instagram, su Youtube e su Twitch come Kingslave Corporation E iniziamo questa live Però prima voglio rammentarvi che alle 4 e mezza ho messo in premiere il video di l'aviation di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Quindi non perdetevi alle 4 e mezza che l'ho messo in video programmato così almeno lo potete vedere Detto questo continuiamo a giocare Allora ci dobbiamo un po' potenziare il video Oh Dio Dio Hey Hey Ben E io ti veneti E io ti veneti E io ti veneti a cui non va a dare che a si pensano Ok, ho scaricato il video del quarto cazzo, ora provo a scaricare il telefono, se no Non mi hanno neanche visto Dai che non ci sto più su Vabbè, lo faccio Vabbè, lo faccio Vabbè, lo faccio Vabbè, lo faccio Scusate ragazzi, faccio una piccola pausetta e poi vengo subito Vabbè, lo faccio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. E quello era l'ultimo. Delsi, l'ultimo container si trova a terra al Teddy Buck. Il più vista convergente in zona. Non lasciare che prendano i conflitti. Non permetterò che prendiate queste persone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mazzagli contro altro cemento. Vanno ancora giù. Eugene, non puoi mandarmi altri angeli? Sì, ma potrebbe volerci un po'. No, non ce l'ho. Mi servono al massimo nel giro di due minuti. No, 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 non è così. Che dove va andare? Non puoi mollare proprio adesso. Io non ce la faccio più. Eugene, fai un bel respiro. Eugene! Eugenio! 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 Sono morto. Eugenio! Grazie a tutti. 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 Ok, Angioletto, te li ho stancati per bene. Ehi, quando sarà tutto finito, mi insegni come si fa? Tu non sei degno! No, ti trasformi l'angelo, sei proprio stronzo. No, ti trasformi l'angelo. No, ti trasformi. No, ti trasformi l'angelo. E così è deciso di tuffarti nel mondo reale. Già, mi hai convinto. Un agente si merita una possibilità. Il gusto è il nome di questa gente? Grazie. Già, beh, se mi dovessero deludere ancora, farò piovere un po' d'inferno. Buon ragazzo. La vita ti sorride. Salve, buonasera. Pulisci. Coraggio. Ok. In primis. Giupi, vai. Ok. 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 Delsin, sei vicino a un attivu? Come sempre dopo la storia di Eugene I TG parlavano di un'esplosione alla torre ma hanno subito smentito Cerca un buon punto di osservazione e indaga E' un'esplosione a un'esplosione a un'esplosione alla torre ma E' 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 un'esplosione alla torre ma Siamo a Koch, cioè non diamo null'altro a non me segnare. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Un mio terrorista decisamente fascinoso ha deciso di rovinare uno dei vostri cartelloni. Resista e resti dov'è, inviamo una squadra del T-U-P a neutralizzare la minaccia. Non credo che mi stancherò mai. Ehm. la giacca 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 la giacca